Una buona giornata ed un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete autostradale e stradale della Toscana. Sulla A1 fare attenzione per un mezzo pesante in avaria segnalato in direzione Roma tra Firenze Imprunita e Firenze Sud. Su raccordo autostradale Siena-Firenze restringimento di carreggiata in corrispondenza dei viadotti Filinelle e Molinuzzo tra Poggi Bonzi e Tavarnelle. Sulla regionale 302 Brisighellese Ravennate senso unico alternato all'altezza del chilometro 27 nel comune di Borgo. Ricordiamo l'obbligo di dotazioni invernali a bordo sulle autostrade e sulle strade a lunga percorrenza. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con regione Toscana, città metropolitana e comune di Firenze. Vi auguriamo un buon viaggio.